Al Foggia basta un golletto realizzato in avvio di ripresa da Stajano per sbrigare la pratica grumentum e conquistare il sesto successo in campionato. Tre punti che consentono alla squadra di Corda di rimanere ad una lunghezza dalla capolista Bitonto. Si gioca in uno Zaccheria che non presenta il colpo d'occhio delle migliori occasioni e su un terreno visibilmente allentato dalla pioggia. L'avvio dei rossoneri è vibrante pochi secondi e gli ad arresta di testa costringe il portiere del grumentum Donini alla prodezza. Donini si ripete al sesto impegnato severamente da un calcio piazzato di cittadino. Gli ospiti rispondono al diciassettesimo con un'incornata dell'argentino Martinez e una delle rare chance capitate alla formazione lucana. Sullo Zaccheria continua a piovere la scarsa visibilità obbliga all'accensione dei fari. Al ventitresimo Tortori dalla distanza sfiora il gol palla al lato dopo trentatré minuti. Si fa male Martinez Bongermino prende il suo posto al trentaseiesimo occasionissima per il Foggia che nasce da un errato disimpegno della difesa lucana. Iada resta fa tutto bene ma la sua conclusione impatta sul palo alla sinistra del portiere. All'intervallo si va sullo 0-0. In avvio di ripresa Corda ridisegna il Foggia fuori di Masi e Delicarri dentro Salines e Russo con Gentile che arretra a dirigere la difesa. Aumentano i giri nel motore rosso-nero e al cinquantacinquesimo le mosse del tecnico vengono premiate col vantaggio. Russo crossa dalla sinistra e Stajano mette dentro. È il gol partita che varrà i preziosi tre punti. Girandola di cambi da una parte e dall'altra il Foggia ci prova ancora al sessantaduesimo con un colpo di testa di Viscomi parato dal portiere. Sempre Viscomi al settantacinquesimo in corna di poco alto sulla traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un minuto più tardi proteste del Foggia per un sospetto tocco con un braccio in aria di un difensore del Grumentum. L'arbitro lascia correre. Campagna ci prova al settantottesimo dai venticinque metri ma la conclusione termina fuori e il Foggia la chiude nella tre quarti avversaria dove si spengono anche i quattro minuti di recupero che sanciscono la vittoria dei rossoneri e avviano la festa dello Zaccheria.